Durante la preghiera che noi premettiamo lì nella stanzetta che sta di fronte, prima di venire qui, il Signore ci ha fatto intendere una parola sull'amicizia. Ci ha ricordato alcuni testi, un testo del Vecchio Testamento dove si dice che chi ha trovato un amico ha trovato un tesoro. E' l'altro testo che ci illumina, non tutti gli amici sono veri amici, ci sono amici di nome e amici di patto, per cui discernimento o fulatezza nel discernere la vera dalla cristizia amicizia. E poi c'è un altro testo del Nuovo Testamento, quello di Gesù. Io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre lo faccio conoscere a voi. Forse il Signore ha voluto indicarsi, attraverso questi testi, che l'amicizia è un grande bene, è un grande tesoro che noi dobbiamo custodire. C'è un'amicizia con Dio e un'amicizia con gli uomini. Entrambe queste amicizie sono buone. C'è invece una amicizia cattiva, dato che il Signore dice che vuole essere nemico di questo mondo e nemico di Dio. Per cui c'è una amicizia cattiva che elide l'amicizia buona, qual è l'amicizia con Dio. Ecco, per un momento focalizziamo questo argomento portato alla riparta dal Signore stesso durante la preghiera. Perché voi sapete bene che non scegliamo noi l'argomento della catechesi, quello che premettiamo alla preghiera, ma è il Signore che dà delle indicazioni e su queste indicazioni noi parliamo, facciamoci di d'ascadia nello Spirito. E anche il tema poi ci introduce nella preghiera e allora focalizziamo un momento questo amore di amicizia che esiste tra noi e Dio è qualche cosa di meraviglioso una cosa inaurita che Dio così grande un Dio onnipotente onnisciente un Dio di infinita santità stringa vera amicizia con l'uomo che pure è così debole così fragile così povero così peccatore non si regrava il Signore né stringere amicizia con noi ecco una prima domanda non si reprime l'uomo nel subire l'amicizia di un Dio così grande e così tanto certamente l'amicizia avviene tra due persone uguali e bene proprio questo ha fatto il Signore dite bene che l'amicizia o trova uguali o fa uguali non c'è amicizia tra due persone disuguali ecco perché quando il Signore fa amicizia con l'uomo siccome lui è molto più in alto dell'uomo scende al grado dell'uomo e siccome lui ama l'uomo lo porta su al grado suo ecco il portento dell'amicizia di Dio lo fa discendere fino all'uomo e fa portare l'uomo fino al suo grado fino alla sua altezza in modo che ci sia una uguaglianza tra Dio e l'uomo tra i due amici non ci può essere disuguaglianza a viso dell'amore di Dio chi glielo fa fare al Signore e siccome l'amore di amicizia è un amore gratuito non è un amore interessato neanche un amore di istinto appassionale non c'entra a me il nostro ma è una amicizia di scelta Dio liberamente ha scelto l'uomo tra tutte le creature possibili lo ha fatto poco meno degli angeli angeli che il pezzo originale lo hai fatto Elohim Dio poco meno di Elohim perché Elohim ce n'è uno lo hai fatto poco meno di Dio Dio così sceglie l'uomo come amico e quando l'uomo tradisce l'amichizia con Dio Dio non rinuncia all'amico lo redime per cui la redenzione la incarnazione del verbo è opera dell'amichizia di Dio Dio per stabilire l'amichizia rotta con l'uomo manda il suo figlio il quale si moda per noi per insaperire l'amichizia e per garantirsi vedete un po' per garantirsi da un altro tradimento che l'uomo potrebbe fare cosa ha fatto questo buon Dio ha messo niente di meno che l'amore stesso dentro di noi ha messo lo spirito santo la terza persona della tantissima Trinità quella che congiunge padre e figlio l'ha messo dentro di noi per cui timora dentro di noi e diventa come diceva la Madonna per passo qualche giorno fa lo spirito santo diventa il paraclito e spiegava la Madonna cioè il compagno del vostro cammino anche questo senso ha la parola paraclito il compagno del nostro cammino colui che ti accompagna e ci garantisce l'amichizia con il Signore vedete quanto il Signore lui ha fatto per garantire questa amichizia per tenerci i suoi amici Gesù diceva io non vi chiamo più servi ma vi chiamo amici voi siete i miei amici ed io vi rivelo tutto quello che mio padre mi dice tutto quello che so ve lo dico ecco un'altra nota della amichizia non ci sono decreti tra amici tra amici si dice tutto per cui con l'uguaglianza per cui ti dirà del tu quando è vero che noi chiamiamo il Signore col tu non diciamo direi al Signore che l'angelo fusco faceva una strada quando voleva un po' fare una commedia così alla televisione e al teatro chiamava direi Dio ma noi chiamiamo Dio qualche volta con voi ma l'identività chiami il tuo a Dio come Dio dà il tuo a noi dunque c'è un'uguaglianza ma oltre l'uguaglianza c'è questa caratteristica che Dio ci dice tutto e noi diciamo tutto a Dio ci dice tutto ecco la rivelazione perché Dio si rivela perché Dio scrive attraverso gli geografi tutto quello che è ed ha e vuol fare perché Dio rivela i suoi progetti all'uomo appunto perché l'uomo è il suo amico tutta la rivelazione si spiega da questo fatto che Dio è amico nostro e ci dice tutto di sé non ci vuole nascondere nulla di sé è chiaro che non possiamo comprendere tutto di Dio ecco perché tutto è graduale e ricordate quello che vede Gesù ecco io ti manderò il mio spirito che spirito di verità egli vi ricorderà tutto quello che vi ho detto adesso non potete comprendere tutto non ce la farete a comprendere tutto eppure io voglio rivelarvi tutto però quando verrà lo sfinto di verità che io vi manderò egli vi darà tutta la verità tutta la mia verità perché egli prende del mio e ve lo annuncia già nel Vesce del Samento il Signore quando tratta con gli amici rivela tutto c'è un bel testo di Abramo e Dio decide di distruggere Soto e Comorra e allora Dio parla le tre persone vengono introdotte come in un colloquio e Dio dice stesso ma vi pare giusto che noi distruggiamo Soto vengono e non diciamo niente di questo progetto che abbiamo al nostro amico Abramo ma non è giusto non è conveniente è giusto che glielo diciamo ed è così che Dio scende e ne parla ad Abramo fa questa confidenza ad Abramo perché Abramo è il suo amico e un altro testo dei profeti dice che Dio fa qualche cosa senza prima rivelarlo ai suoi amici i profeti no tutto quello che Dio vuole fare prima lo rivela ai suoi amici ai profeti ne parla con loro perché sono amici ecco perché Gesù dice tutto quello che io ho dito dal padre mio ve lo faccio conoscere perché voi siete i miei amici qui Gesù si fa la scelta dell'amicizia ecco qua quello che diceva a principio non è dettata l'amicizia da una inclinazione come può succedere tra di noi se può essere un'amicizia carnale se può essere un'amicizia di simpatia Dio non ha questo grado di amicizia Dio Dio ha una amicizia di volontà di volontà libera sceglie quelli che vuole come i suoi amici così è anche la nostra amicizia è una amicizia di libera scelta noi siamo stati scelti da Dio non voi avete scelto me ma io ho scelto voi noi siamo gli amici che Dio si è scelto e dobbiamo essere grazie al Signore ma quale merito avevo ma noi non abbiamo merito per essere scelto da Dio Dio sceglie chi vuole tante volte sceglie i più umili sceglie i più umili terapidi anzi questo è nello stile di Dio ricordate quello che dice il Signore Gesù esultando nello Spirito Santo Padre ti ringrazio e ti benedico perché hai nascorso queste cose ai grandi ai sapienti ai dottoroni di questo mondo e li hai rivelati ai piscoli perché così è chieduto a te e così io sceglio gli amici che vuole e li sceglie tra i più miseratili sono i miseri gli umili i privilegiati di Dio dice un testo di Michele su chi poserò lo sguardo sull'umile sul contrito di cuore sul povero posi il mio sguardo di amore e lo scelgo perché il Signore Cese Maria la più grande sua amica perché era la più povera di tutte le creature e mi ha scelta ecco perché tutte le generazioni mi chiameranno Beata e gli ha guardato c'è lo sguardo c'è lo sguardo di Dio come tutte le creature che è posato su di me ed è diventata l'amica di Dio la prediretta di Dio Miriam l'amata da Dio noi siamo gli amici di Dio ma sarebbe questa sola verità per renderci sommamente gioiosi quando non possiamo contare sui amici della terra abbiamo un amico potente che è Dio e se noi coltiviamo questa amicizia con Dio Dio che è fedele non ci tradirà e dove lui saremo anche noi ecco la terza nota dell'amicizia gli amici vogliono stare sempre insieme anche nelle cose umane questo succede due fidanzati si amano c'è un amore reciproco vogliono stare sempre insieme due amici si amano vogliono stare sempre insieme si spartano a notte ecco si dividono la notte per dire che vogliono stare sempre insieme e così fa Dio con noi e allora Dio dice come facciamo per stare insieme e allora dice così quando sono due amici e allora tu vieni a casa mia io vengo a casa tua io vengo a casa tua un giorno tu vieni a casa mia ma indietro perché dobbiamo stare sempre oggi mangi tu da me sede mangio io da te domani tu da me e poi domani io da te perché dobbiamo mangiare stare insieme stare insieme non possiamo stare diritti questa è una vera vicinia e così fa Dio con noi Dio che cosa fa vuole stare con noi e allora che cosa ha fatto per stare con noi ha fatto il più grande miracolo l'incarnazione l'incarnazione è il miracolo dei miracoli è l'opera più grande di Dio superiore alla creazione cosa fa il mio voglio stare con voi e allora il figlio di Dio che ha con sé il padre e ha con sé lo sfidito tipo uomo e si incarna cioè prende tutti noi in sé e noi chiamo il suo corpo vedete un po' che roba che roba è diventiamo il corpo di Dio il corpo di Dio e vicinanza non ci può essere anche nell'amichizia degli uomini non ci diventa mai il corpo dell'amico di chi può essere con un Dio di corpo ma non ci può essere il corpo stabile invece noi siamo il corpo di Dio il corpo di Cristo il corpo dello spirito Dio abita con noi Dio abita nel corpo mistico ed abita in ciascuno di noi non sapete che voi siete il tempio di Dio la dimora di Dio che di abita nei nostri corpi mortali noi siamo le membra di Dio ed è cosa pure bella quando questa amichizia si estende a noi che noi diventiamo membra di noi degli altri di questo ancora non abbiamo parlato forse avremo il tempo perché sull'amichizia di Dio si stampa la nostra amichizia che Dio vuole che noi abbiamo comunque l'amico vuole stare con l'amico e allora cosa fa Dio prima Dio sta con noi finché siamo pellegrini in questo mondo e poi lui si porta con sé per cui la morte è un dono di Dio è un andare nella casa del padre e la morte che è la cosa più tremenda per noi che noi tanto temiamo perde tutto il suo mordente di cattiveria come noi la immaginiamo diventa l'amica che ci porta a Dio e attraverso la morte che noi andiamo a Dio e quando noi moriamo che gioia quella del padre ci troveremo davanti il padre il figlio lo spirito ci troveremo la madonna e gli angeli che ci accolgono nella casa del padre diceva Gesù io pregate il padre io vado avanti adesso vado avanti per troverarvi il posto in modo che dove sono io siate anche voi per cui dove è Dio poi un giorno saremo tutti ecco il motivo del paradiso il motivo del paradiso non c'è tanto un premio che ci dà noi per le buone opere no è un modo è un modo inventato dal Signore pensare con lui per sempre nella sua gioia nella sua felicità a godere con lui a mangiare bene con lui il vino che è in ebria ecco io non berrò più di questo succo da narice fino al momento in cui io berrò nella casa del padre mio è il vino della felicità questa è l'amichizia che Dio ha fatto con noi e queste sono le note dell'amichizia che dobbiamo anche ritrovare nell'amichizia tra di noi perché l'amichizia di Dio non è l'amichizia chiusa è l'amichizia aperta e Dio vuole che noi siamo amici tra di noi vuole che noi ci amiamo per lo stesso amore con cui Dio ci ha amato e con cui noi amiamo Dio come Dio ha amato noi così vuole che noi ci amiamo tra di noi e siamo tra di noi una cosa sola come lui e una cosa sola con noi di qui l'amichizia nostra che è una meta da raggiungere da attuare giorno per giorno tante volte noi guardiamo con uno sguardo corto all'amichizia guardiamo con sospetto l'amichizia e alle volte diamo una dimensione troppo umana all'amichizia quasi che l'amichizia con una persona ci privi dell'amichizia che io possa avere con quella persona l'amichizia divina l'amichizia cristiana è un'amichizia aperta a tutti è un'amichizia che è a largo raggio che ha un unico fondamento la volontà di Dio quando noi rimaniamo nella volontà di Dio allora noi siamo amici tra di noi e nell'amichizia di come si tratta di amore di carità non c'è mai basta io non amo sufficientemente il mio fratello il mio amico quanto Dio vuole che lo ami io amando di un amore di amichizia di fratello di sorella resto sempre alti sotto di quello amore che Dio vuole che Dio porti sempre alti sotto difatti cosa dice la scrittura se qualcuno non ami il suo fratello come lo ha amato Cristo non è degno di Cristo e che Cristo ha amato noi fino a dare la sua vita per noi anche noi dobbiamo essere disposti a dare la vita per i fratelli la vera amichizia comportamento che dobbiamo essere disposti a morire per il fratello per il fratello e che arriva a morire per il fratello nessuno nella vita è ordinaria eppure questo vuole il Signore perché questo è consagrato nelle scritture ecco l'amore di amichizia che deve essere come quello che ci è stato dato da Dio come Dio ha amato noi così noi dobbiamo amare i propri fratelli e come Dio si è fatto amico nostro e noi siamo diventati amici di Dio così restando nella stessa volontà di Dio dobbiamo amarsi gli uni e gli altri se ci troviamo tutti nella volontà del Padre quella amichizia che dice tra noi e Dio deve coesistere tra noi e quelli che sono in Dio e allora fratelli le scorse vi darete molto lungo amiamoci con sincerità di amore sincero tenero leale come dice San Pietro di un amore che parte dalla mente scende al cuore sali alla bocca e ti intende le mani c'è un amore che ti prende totalmente questa è la vera amichizia conservando però l'unico fondamento che è quello della volontà di Dio tutti quelli che si ritrovano nella stessa volontà di Dio si ritrovano nella stessa amore di Dio ed è nell'amore di Dio che si diventi amici gli uni degli altri questa questa è la vera amichizia di cui parlano le scritture chi ha trovato un amico ha trovato un tesoro questa è l'amichizia di cui parla in Siracide c'è il vero amico e c'è il falsa amico non c'è un amico di interesse in mezzo a noi non ci può essere ma la nostra amichizia è fondata in Dio e da tutti i connotati dell'amichizia divina gloriamo il Signore benediziamo il Signore che ci è fatto amico nostro e cerchiamo di essere amici tra di noi ma amici veri amici veri non è amici a metà e non dobbiamo avere gelosia e giove degli altri perché questa non è amichizia e non dobbiamo essere così autorati quando vediamo uno che ama il fratello anche dobbiamo godere quando vediamo un fratello che ama un fratello dobbiamo godere quando dimostra questo amore vero quello di Dio dobbiamo godere perché è il Signore che in quel momento congiunge queste due persone è chiaro che non può essere un amore chiuso ma un amore aperto magari tutti chiamassimo tenatamente sinceramente realmente magari tutti ci spartissimo il sogno magari tutti avessimo tanto amore da volere di stare sempre insieme questo ci avverrà soltanto in cielo ma in parte possiamo realizzare il cielo qui in terra amandoci gli uni gli altri del nostro gruppo facendo lega fraternità amigizia vera tra di noi alleluia chi è amico di questo mondo non può essere amico mio perché non c'è nulla di comune tra me e il mondo non ci sia niente di comune tra voi e il mondo ve lo ripeto chi vuole essere amico di questo mondo non può essere amico di Dio fermo questa lettura con un altro testo indicato dal Signore dove si ripete lo stesso insegnamento Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio che tornava si alzò da tavola depose le vestie prese un asciugatoio si recinti attorno alla vita poi versò dell'acqua nel catrino e cominciò a lavarli i piedi dei discepoli e ad asciugarli con lo asciugamatoio di cui si era cinto quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vestie sedette di dove disse loro sapete ciò che vi ho fatto voi mi chiamate Maestro e Signore di Devere perché io lo sono se dunque io il Signore e il Maestro ho lavato i vostri piedi anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi e parola del Signore Giovanni Signore ti ringraziamo di questi due test del testo di Luca 22 e del testo di Giovanni 13 dove tu ci dai questo sublime insegnamento come bisogna essere amici tu sei il vero amico e sei dato l'esempio di come dobbiamo amarsi gli uni gli altri come ho fatto io così fate anche voi e come io ho lavato voi i piedi così anche voi dovete lavarti i piedi gli uni gli altri o Signore tu vuoi che noi ci serviamo gli uni gli altri nell'umiltà nelle azioni più umili nel perdono ricendevole nel togliere al fratello quello che di immondo c'è nei suoi piedi con umiltà lavando a lui i piedi prostrati per terra davanti a lui o Signore Gesù fa che come tu hai fatto facciamo anche noi e che riputiamo vera amicizia e lavarci i piedi gli uni gli altri e l'essere sottomessi gli uni agli altri grazie o Signore Gesù il Signore ci invita in questo messaggio a non tradire mai l'amicizia chi tradisce un amico tradisce Dio che è l'amico e ha dato il suo amore a te attraverso il cuore e la bocca e la mano dell'amico Signore vuola la fedeltà a noi o Signore o Signore noi ti ringraziamo di questo ammattimento di non tradire l'amicizia noi vogliamo non tradire te che sei l'amico sincero e anche vogliamo tradirci tra di noi perché tradendoci tra di noi tradiamo te unico vero amico che fai amici me e il mio fratello me e la mia sorella nome e gloria a te a me e lì il Signore ci esotta a dichiararci amici gli uni degli altri il Signore invita chi si sente lontano io non posso fare amicizia con questi di qua c'è qualche persona che dice io non posso essere amico perché rimani sulla soglia che dice il Signore entra anche tu perché anche tu sei nostro amico e allora per darci un segno di amicizia una volta che Dio ci ha chiamato amici e noi ci dobbiamo credere amici e concederemo tutti la mano la mano dell'amicizia e cantiamo al Signore il nostro amore cantiamo la nostra amicizia in Lui non siamo più soli nella vita siamo amici tra di noi ecco leggiamo prima di cantare quest'ultimo testo un amico fedele è una protezione potente chi lo trova trova un tesoro per un amico fedele non c'è prezzo non c'è peso per il suo valore un amico fedele è un balsamo di vita lo troveranno quanti temono il Signore chi teme il Signore è costante nella sua amicizia perché come uno è così sarà il suo amico è parola di Dio inspirato da te e adesso noi che siamo amici teniamoci per mano e cantiamo il nostro amore di Dio di Dio